Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera. Il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Apriamo ricordando che l'Udinese è uscita sconfitta questa sera dallo stadio Castellani di Empoli nel posticipo del lunedì 3 a 1 a favore dei Toscani e a questo punto la panchina di Mister Gotti traballa bruscamente. C'è da capire se la società nelle prossime ore prenderà provvedimenti per sollevarlo dall'incarico con l'eventuale nuovo allenatore. Adesso andiamo avanti con le altre notizie. Andiamo subito con Monfalcone per quanto riguarda quello che è accaduto nel weekend. Il comando della polizia locale ha reso noti i dati sui controlli effettuati durante la fiera di San Nicolò. Il sindaco di Monfalcone ha espresso grande soddisfazione e ha voluto ringraziare il personale della polizia per il lavoro svolto ai cittadini che si sono dimostrati dirigenti e comprensivi rispettosi delle norme anti-covid. Durante la manifestazione sono stati controllati oltre 154 gestori delle bancarelle, risultati tutti regolari per il rispetto del Green Pass e anche 560 persone tutte proviste di mascherina e 29 che accedevano alle bancarelle regolarmente proviste di Super Green Pass. I 28 uomini della polizia locale affiancati da 10 guardie giurate hanno permesso anche di scoprire due commercianti di origine senegalese che esercitavano abusivamente alla professione. Ne hanno ricevuto un altro daspo, un altro daspo è stato dato per ubriachezza. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Udine. Verrà inaugurato domani alle 15 nel parcheggio del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, accesso da via Caneva, il servizio elettrico di car sharing finanziato da fondi comunali, ministeriali ed europei ottenuti per il tramite della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Affidato al raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da Era Com SPA, Era Luce SRL, SIFA, società italiana, flotte aziendali SPA, il servizio si chiamerà SIFA Sharing. SIFA Sharing potrà contare su 10 Renault Zoe elettriche e 12 prese di ricarica su 5 siti, 4 nella città di Udine e 1 in quel di Tavagnaco. E ora cambiamo decisamente argomento, parliamo di iniziative per quanto riguarda le aree interne con la dichiarazione dell'assessore Zanier verso l'intesa finale su 14 milioni di investimenti. Capiamone di più nel servizio. I sindaci della comunità di Montagna che va verso l'intesa su investimenti per 14 milioni di euro. Sì, andiamo a concludere quel percorso iniziato con la strategia aree interne per cui una serie di interventi a valere sui fondi comunitari hanno un buon stato di avanzamento, altri invece necessitano, a seguito della firma degli APQ, di essere messi a terra proprio con il coinvolgimento di tutto il territorio. Un territorio che in fase di programmazione si è speso per riuscire a individuare gli interventi da realizzare e che oggi viene chiamato a un ulteriore sforzo che è quello proprio di tradurre in pratica le ultime misure che sono frutto dell'accordo nazionale. La montagna necessita anche di politiche comuni, c'è una strategia in questo senso? Esattamente, anzi proprio quest'oggi è iniziato un percorso che vedrà coinvolte tutte le comunità di montagna della nostra regione per andare a definire, a seconda di quelle che sono le potenzialità delle singole aree, ovvero anche quelle che possono essere in comune tra le singole aree, quella declinazione delle politiche della montagna che, come si dice molto spesso, devono essere aderenti al fatto che in Friuli Venezia Giulia non esiste una montagna, ma la montagna è declinata in molti modi diversi a seconda delle condizioni nelle quali, anche banalmente dal punto di vista orografico piuttosto che ambientale, è connotata questa nostra magnifica regione. Questo percorso richiederà degli incontri anche tra aree omogenee che possono essere rappresentate da diverse comunità di montagna sparse sul territorio della nostra regione per iniziare a definire delle politiche comuni da mettere poi a terra con le linee di sostegno, alcune già esistenti ed altre che possono essere pensate in modo specifico. E ora andiamo a Trieste per una bella iniziativa, oggi è San Nicolò, una delegazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Giuliano, composta da una dozzina di persone anche quest'anno, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, ha rinnovato la tradizionale visita ai piccoli pazienti ricoverati al burlo garofolo, arrivati all'ospedale materno infantile triestino con un'autoscala, alcuni mezzi del nucleo spello alpino fluviale. I Vigili del Fuoco hanno aiutato un loro collega travestito da San Nicolò a passare davanti alle finestre del reparto di oncoematologia e a depositare alcuni doni per i piccoli pazienti sulla vicina terrazza. Successivamente il Vigile San Nicolò con un collega è entrato in ospedale e ha attraversato i corridoi dalla clinica pediatrica e della chirurgia per salutare a distanza i bambini ricoverati e lasciare loro qualche dono. E con questa notizia chiediamo qui questa edizione della sera, ulteriori news sul nostro sito www.friulitv.net, non resta che ringraziarvi come sempre per la visione all'ascolto e augurare a tutti voi una buona notte. Claudine, locale per palati fini e buon gustai, dove si mangia, si beve e si respira burda, collio e quai. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Grazie a tutti.